Ciao! Eh sì, sono rientrata domenica da Palermo, l'incontro è stato anche questo bellissimo. Non potevo chiedere una giornata migliore, ha fatto un caldo incredibile, maniche corte, addirittura in spiaggia, in costume. Non io, mi sono immerso, ho immerso le gambe nell'acqua, però insomma non potevamo fermarci più di tanto. Però assolutamente una giornata meravigliosa. Adesso qui a Roma diciamo che la temperatura si è abbassata notevolmente, ma da quello che so anche in Sicilia. Mentre al nord mi sembra che ha fatto, almeno oggi è martedì. E credo che ci siano state delle giornate, insomma, non male, non male, soprattutto per questo periodo dell'anno. Ringrazio le ragazze che sono venute all'incontro di Palermo. Anche a Palermo, insomma, non potevo aspettarmi di meno. Calorose, ovviamente essere in Sicilia per me ha quel qualcosa in più. Ho visto ovviamente mio fratello, mia nipote, mia cognata e comunque ho mangiato, credo di aver preso intorno ai 2-3 chili. Perché in quei due giorni ho mangiato tutte le cose. Cannoli, cassata. E adesso sono a Roma, quindi, quindi, è come giocare in casa due volte, no? Perché una volta in Sicilia, ovviamente, essendo siciliana, adesso qui, vivendo a Roma, sono contentissima di fare un incontro a Roma e poter vedere le ragazze che mi seguono, le ragazze romane, poterle incontrare. È ancora più strano perché l'incontro sarà in un posto dove io vado comunque spesso, essendo l'unico centro commerciale più vicino al mio quartiere. È comunque anche vicino, molto vicino alla palestra che frequento. Sto parlando del centro commerciale Porta di Roma, Contrada, Bufalotta, questa è via delle vigne nuove. Comunque, chi è di Roma lo conoscerà sicuramente. È un grandissimo centro commerciale con tantissimi negozi. Andrò alla profumeria Douglas o Douglas Douglas, come al solito. L'orario resta sempre lo stesso, quindi alle 17, quindi questo sabato, sabato 16, fatemi controllare, sabato 16, alle 17, presso la profumeria Douglas del centro commerciale Porta di Roma. Prima o dopo mi sa che passo a fare un po' di spesa, mi sono riuscito sempre a fare la spesa, posso arrivare da lì, tipo, arrivo con le buste. No, a parte gli scherzi, no, veramente non è uno scherzo, però no, vabbè, no, sabato non la faccio la spesa, la faccio venerdì. E spero di pubblicare il video di Catania nei prossimi giorni. Non ho avuto molto tempo, non avrò molto tempo, quindi se ne parla molto probabilmente la settimana prossima. Comunque, molto carino. Ovviamente ci sarà il video di Deborah Milano, che è quello appunto ufficiale, con tante domande, altre domande, secondo me molto carine e diverse dalle solite. E poi ci sarà il mio video, il dietro le quinte, il video che ho girato, insomma, durante questi due giorni a Palermo. Fatemi ripetere come al solito, perché magari qualche persona non ha visto il video precedente, di andare e lascerò il link qui sotto, in modo da andare sul sito, sulla pagina Facebook di Deborah Milano, poter scaricare il coupon per lo sconto e per lo smalto in omaggio. Quindi date un'occhiata nel box info per il link. Ed è tutto, quindi mi mando un grandissimo bacio e ci vediamo sabato alle 17 al centro commerciale Porti di Roma, alla Pro Famiglia Douglas. Ciao! Ciao!